Ha fatto tappa Siracusa per meno di 24 ore il treno da crociera Golden Eagle Danube Express. È arrivato infatti ieri sera ed è ripartito dalla stazione centrale di Siracusa questa mattina alle 11.30. Il treno di lusso sta girando le più belle località europee. Si tratta di uno dei treni più lussuosi al mondo con comfort paragonabili a quelli di un hotel a 5 stelle con all'interno bar e ristoranti. Il costo di una camera doppia è di 3.500 dollari mentre quello di una camera doppia extra lusso è di 7.300 e quello di una suite è di circa 15.000 dollari. Il treno super lussuoso è di proprietà della società britannica Golden Eagle Luxury Trains che offre la possibilità di viaggiare lungo i binari di tutto il territorio asiatico, dalla Mongolia al Mar Caspio, dalla Siberia all'Artico. Si chiama Sicilian Odyssey, il tour che ha fatto tappa a Siracusa. Diverse le fermate nelle città italiane come Venezia, Verona, Bologna, Palermo e Ragusa. Dopo la partenza da Siracusa centrale il treno da crociera si fermerà a Catania e Taormina per poi imbarcarsi per la Calabria.